La vita della grazia La vita dello spirito capace di aiutare, sostenere continuamente l'impegno e lo sforzo per dare una dimensione nuova alla nostra storia. Ed è Gesù che continuamente condivide con la storia dell'umanità, la storia dei poveri, la storia degli umili, il pane del cammino. E questo pane che è condiviso, che è spezzato perché tutti gli uomini possano in lui essere nutriti, essere disettati, essere rigenerati per una vita che non conosce tramonto. E' la Chiesa allora che, sostenuta dalla forza di questo cibo, che non perisce i vostri padri nel deserto hanno mangiato la manna ma sono morti. Questo invece è il pane che dura per la vita, che è per l'eternità perché è infinito il suo sapore come è infinito l'amore che condivide. E' l'amore che non ha tempo, è l'amore che non è condizionato, è l'amore che è continuamente segno di questa dimensione, ecco, propria di Dio, che richiama, che genera e che continuamente sostiene. Ecco il cammino del discepolo e allora è proprio questo invito che ci proviene dalla liturgia domenicale che è scandita sempre, ecco, in queste domeniche, che è da questo discorso di Gesù sul pane della vita che ci deve sostenere, aiutare nell'essere perseveranti per poter giungere, ecco, a contemplare la gloria del risorto, ad essere perseveranti nella fede. La perseveranza credo che oggi sia un concetto che dobbiamo riscoprire come continuità della vita. Viviamo in un tempo nel quale siamo molto frammentari, tutto spesso è lasciato all'esperimento, tempi di durata molto breve, esperienze brevi. Perseverante vuol dire continuamente credere nell'amore e affidarsi, senza scoraggiarsi mai, senza dare dei tempi di scadenza, ma invece ripetere a volte certamente con difficoltà il proprio sì in un atto obbedenziale di fede. L'Eucaristia, allora, memoriale vivo della Pasqua del Signore, ci sostiene, ci guida ad essere perseveranti nella fede, nella speranza e nella carità per poter realizzare in pienezza la nostra vocazione di discepoli umili e semplici, sempre amati da un amore più grande di noi.